ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su ghost of a tale un gioco che ho acquistato grazie ai saldi invernali di steam un gioco che seguivo da tanto tempo che mi ha sempre incuriosivo da tantissimo tempo e l'ho trovato scontato 15 euro e 40 anziché a 23 vi ricordo che qua sotto nei siti in descrizione soprattutto instant gaming lo potete trovare anche a 10 perché non l'ho preso lì non era disponibile però alla fine bene o male acquistando da steam se un gioco non piace non credo sia il caso di questo gioco però lo potete rendere comunque iniziamo una partita soprattutto adesso con l'anno nuovo dovrò decidere bene cosa fare a livello anche di serie portare magari qualche serie in più magari mi suggerirete voi in principio c'era la fiamma verde priva di coscienza distruggeva tutto ciò che toccava è un gioco stelta se ve lo state chiedendo lo andiamo a vedere creature viventi la affrontarono ma caddero una a una e divennero parte dell'esercito del fuoco di smeraldo ok abbiamo capito ad un certo punto rimasero solo i ratti infatti noi saremo tilo un piccolo troppo che riuscivano infine a sconfiggere la fiamma verde a periclave bene noi saremo come dicevo un troppo la grafica è molto bella molto bella ma la manna dove sei probabilmente è la l'amore di questo troppo che è un troppo menestrello la la grafica è meravigliosa ho levato forse qualche effetto strano di la sfocatore di movimento che proprio non sopporto non so nulla quindi bisognerà andare anche a vedere che cosa con il tasto sinistro si prendono gli oggetti eri di fronte al barone contro moglie nanna marna marna al tuo fianco ti chiede di suonare la coppa avvelenata sapevi che non era una richiesta sincera ma una prova la suonasti marna però resta in silenzio nei suoi occhi solo disprezzo il barone si mosse per colpirla tour lasti e cercasti di intervenire per l'oscurità allora per quanti giorni sono trascorsi da allora ok vabbè ci hanno chiuso in un peggio mamma mia che ricordo anche un po skyrim il fatto che comunque si inizi a intanto raccoglio i funghi l'altro saluto è basta per metà per inventare sì che si inizia da una prigione che volevo dire vaso da notte è bello anche la cura del dettaglio perché c'è un catino dentro niente c'è il vasino da notte insomma diamo un'occhiata cosa c'è qua c'è una grata beh adesso diamo un'occhiata qua il pane messaggio misterioso attenzione vediamoci in cima alla torre di guardia non fatti vedere e non lasciare tacce ok ma ci hanno lasciato direttore la chiave della cella bene c'è qualcuno beh la grata diamoci un'occhiata grata è fissata al pavimento di pietra non può essere aperta va bene funghi beh allora io adesso puoi anche trovare informazioni sulle missioni sulla storia ok l'unica pecca diciamo che ho visto perché ha delle recensioni eccezionali su steam lo avevo visto in alcuni gameplay ma di anni fa quando non era ancora in italiano come avete visto è tutto in italiano e l'unica pecca che dicono che per completare alcune missioni servono oggetti che danno altre quest quindi bisogna prenderlo diciamo molto 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 tranquillamente io mangio il pane perché comunque vedete che qua in alto la vita non è il massimo ok l'ho mangiata direi che ok qua ci sono le abilità le andremo a scoprire mentre si sale di livello qua c'è la progressione della storia e le missioni beh a questo punto direi di evadere il gioco non mi sta insegnando nulla riguardo i tasti quindi andiamo a vedere i comandi ww asd interagisci con si gioca anche col pad tasto sinistro salta con lo spazio lancia e abbandona f corre il left shift tutto muoviti fortemente col tasto destro del mouse sembra la mappa ok la percezione è il tasto centrale del mouse ah ci servono le candele però vabbè intanto apriamo la porta ok fuggire la trucella ok diamo un'occhiata allo scrigno all'interno troviamo cappuccio di juta candela fiorini metti una candela sotto porta candela fiorini acciarino ok ok quindi 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 vediamo strumenti abbiamo una porta candela acciarino abbiamo preso questi vestiti che possiamo indossare ok possiamo vedere le specifiche si l'abbiamo messo si abbiamo già tutto indossato se ne è il cappuccio di juta l'abbiamo accolto ma qual è meglio uno o l'altro nessun troppo studiare ok libri ok abbiamo libri dei costumi perché ci sono dei costumi da recuperare ok va bene abbiamo un libro di marna anche quello che abbiamo visto prima è tutto qua va bene varie abbiamo il liuto vabbè le candele le candele vabbè adesso diamo un'occhiata c'è un manifesto ok questo è il manifesto della nostra cella nome tiro professione menestrello atti di sedizione ma non so vabbè chiediamo la porta no ci siamo chiusi nuovamente avete attenzione la guardia veloce bello scrivono ti è venuto il tasto sinistra più per nasconderti ok ok a f5 salvata giurato quindi è che possiamo che salvare ok partita salvata ok possiamo uscire allora f8 meno di salvataggio possiamo uscire no ok furtivamente tenendo premuto il tasto destro di un'occhiata la guardia dove è andata percorrere velocemente su tutte quattro le zampe ti è venuto left shift percorrere allora a dorme ok furtivamente la guardia dorme scusate m non abbiamo la mappa dovevamo recuperare la mappa fantastico abbiamo una porta serve la chiave maestra della prigione passiamo a fianco corriamo via perché non ho ben capito dove dobbiamo andare c'è un'icona lì ok cerca di muoverti furtivamente fa meno rumore si quello l'ho capito anch'io insetto verde prendi è una cimice ce ne andiamo di qua ok insetto prendi io colleziono cimici una candela insetto verde vieni cimice candela poi scopriremo che cosa servono le candele ok qua si scende no buono nel senso che se vogliamo andarcene se vogliamo andarcene continuiamo a scendere siamo in una torre vabbè sto tizio ha detto ci troviamo in cima alla torre quindi noi continuiamo vediamo a vedere come figo anche a parte la compenetrazione ma anche la come muove la testa il top è veramente fantastico non ho ancora corso ti serve una chiave della cella alla allagata ok quindi siamo venuti qua per niente proviamo a correre vedete che niente apriamo la porta siamo andati nella direzione sbagliata intanto per cambiare vediamo allora questa è una cella silenzio vediamo se la guardia qui ha qualcosa allora cammina piano cerca di non sbagliare la guardia ti ha solo sentito muoviti lentamente fra me non ti ha visto sbrigati uscire dalla linea di vista ok ne continuiamo ok zitti zitti ce ne andiamo lì qua e vederci ma sta salendo rosso qualcosa lì via 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 fuggi no io scappo una delle guardie dovrebbero avere la chiave ok cioè se non è stupida dovrebbe il problema che io non so combattere adesso la guardia se ne tornerà probabilmente a dormire io faccio un altro save perché si sa mai usciamo e andiamo a vedere una delle guardie deve avere la chiave ok allora la guardia è tornata là e soffre di narcolessia perché sta già dormendo noi andiamo dall'altra parte stavolta e vediamo uh allora qua c'è del grano io prendo tutto accumulatore seriale scrigno non c'è niente ancora prima di aprire lo sappiamo già ovviamente io scherzo perché ah una porta leva dalla porta attenzione aha c'è un prigioniero salve si possono incontrare diversi png ci sono mi pare 57 missioni 18 png da incontrare l'ho visto nelle statistiche di gioco e non è che mi sono spoilerato nulla per mille furetti danzanti cosa credi di fare topaccio come osi entrare nella mia cella senza un invito sai chi sono io regginota i furetti sono famosi per festeggimenti dei loro matrimoni ti includono balli magnifici in cui si danza rotte di colo va bene te lo chiedo perché io non ne ho idea non sai come ti chiami? no anzi aspetta kel kerold barbalunga tutto qui una barbalunga in effetti un tempo ufficiale di rotta della strega del lago assistente del capitano 8 mici accesa scommetto che sei venuto qui per derubarmi vero razza di schifetente tradotto anche molto bene scusa? si i topi chiedono sempre scusa per qualcosa che hanno fatto ogni viaggio iniziato con un topo a bordo è finito in tragedia e avevamo sempre un topo a bordo cosa vuoi topaccio? ho bisogno del tuo aiuto e io che ne ricaverei? potrei cercare la chiave per rimuovere quelle catene libero? perché a me dovrebbe interessarmi sono qui proprio perché prima ero libero si beh per quello fatto che sono un pirata va bene no qui è tutto quello che mi serve aria umida moscerini in abbondanza da sganocchiare uno sgabello tutto mio però in effetti ci sarebbe qualcosa che potresti fare per me in fondo al corrido c'è una guardia addormentata strangolala cosa? perché? mi ha dato del pirata ma tu sei un pirata? si ne sono orgoglioso però l'ha detto in un modo come se ma la pirateria è un crimine puoi scommetterci allora perché vorrei stucidare la guardia e mi ha dato del pirata? sei un punto a capo temo esatto esatto allora lo farai? non lo so il topino fa tenerezza però noi siamo degli assassini stava prendendo in giro mannaggia ha fatto anche una figuraccia ci penserei io stesso al momento giusto mi accontento di una delle sue bottiglie di torci budella allora deciderò che fare va bene andiamo a prendere le bottiglie di torci budella allora volevo vederlo andare su quattro zampe che è veramente magnifico da vedere è davvero buio qui si ci servirà una candela vabbè intanto bastoncino un armetto resistente per mi lanciato per essere lanciato si spezza con un sonoro crack si può usare per creare una distrazione o smuovere un oggetto instabile premi e per lanciare su giù cioè rotella su rotella giù per scorrere gli strumenti e per premi la rotella per equipaggiare ok ah ok si scorre così quindi la candela piuttosto che l'acciarino e questo ok va bene andiamo avanti zitti zitti ha detto che vuole la bottiglia quindi lì andiamo a portare e vediamo che cosa succede ecco le bottiglie credo siano quelle credo siano quelle ma vedete che no ma peccato mannaggia mannaggia vediamo se è proprio stupido la guardia ah dovremmo creare una distrazione forse forse si eh dobbiamo dobbiamo studiarla bene perché la guardia non è stupida allora praticamente quando ci avviciniamo alla guardia gli sale quella a fare lì ah ok dobbiamo far silenzio ci avviciniamo la barra sale mi fermo scende ok perfetto ho capito mi avvicino mi avvicino fermo ok mi avvicino fermo posso prendere bottiglia bottiglia vino vuoto abbastanza pesante questa è una guardia senza il mezzo si è lanciata con precisione ok perfetto presa la bottiglia e dov'è l'altra bottiglia allora scusate adesso io questa cos'è trocci bottiglia ok con lo stendardo cosa posso farci ti serve il porta candela ma scusa io prendo il porta candela e poi uso brucia scusi guardia non volevo penso che in questo caso sia abbastanza estremizzata la cosa del fatto di far girare l'angolo e non farci beccare appunto perché è una sorta di tutorial comunque l'oggetto l'abbiamo recuperato non so effettivamente cosa mi ha portato il bruciare lo stendardo però intanto lo stendardo l'abbiamo bruciato la guardia adesso ricade nello stato catatonico noi ci mettiamo a correre di nuovo possiamo bruciare anche questo vediamo se succede qualcosa vediamo se butta via ogni volta una candela brucia ah più 25 ok allora buongiorno metto via ok pusillanime che vuol dire credo indichi la mancanza di coraggio allora che ci fai nella mia cella vile pusillanime la bottiglia che volevi ora mettimi il collo della bottiglia tra le lab con un rapido movimento della testa la rana lancia la bottiglia dall'altra parte della cella franto vandole mille pezzi contro il muro esilarante ogni volta che con lo schifettente si rivega che devo subire nessuno mi ha detto russare ora non più ho fatto ciò che mi hai chiesto ah non voleva berla voleva adesso mi aiuterai ti ho dato la mia parola di pirata ma stavolta potrei fare un'eccezione risponderà a qualche altra domanda sto cercando qualcuno mia moglie ma anche lei è un topo si allora non so che dirti non è mica facile distinguere un topo da un altro stesse cose stesse cose stessi stupidi cappelli non sono stupidi va bene allora quella era la tua prima domanda hai avuto risposta no lo giochiamocela meglio si va anche giù mi ha aiutato tu a scappare dalla cella queste catene cosa ti suggeriscono topaccio e non direi di no immagino di no esatto e anche se potessi comunque non lo farei va bene allora altre due domande parate il linguaggio l'ho buttata via questo conosco solo le parolacce va bene allora ti rimane solo una domanda dove ci troviamo? sei a Forte Derwin sulla riva del lago Baelia facci l'abitudine bene allora con questo hai finito le tre domande tutto qui non mi hai dato molte informazioni te ne ho date molte di più di quelle che meriti schifetente ingrato non pensi di essere un po' in debito con me per quanto riguarda sei solo in debito però non sono una strangolata hai solo una gamba libera ho ucciso troppo con molto meno brutto piccolo vabbè ascolta un po' guarda dietro di me nel vaso da notte dovresti trovarci dei fiorini prendeteli perché li conservi in un vaso da notte perché non posso mica tenermeli nel stomaco per sempre schifo preferisco rinunciare un po' di fiorini ma almeno mi libererò di te mi mancherà immensamente ok guardate che tela allora il vaso da notte è qui prendo fiorini ok non so che far almeno adesso io dei fiorini perché siamo arrivati qui insetto verde c'è un libro si può vedere già di ritorno no niente non lo so non lo so onestamente non so dove andare adesso perché ci ha dato dei fiorini ma non siamo riusciti a fuggire quindi adesso diamo un'occhiatina ovviamente a livello grafico siamo al livello massimo ti serve una fonte di luce eccola qui porta ti serve una chiave telefonia niente facciamo una bella roba andiamo a stordire la guardia gli freghiamo la chiave prendo ok devo prendere bene la mira però dicono allora silenzio silenzio e magari poi ottengo anche la chiave ovviamente ho preso questo gameplay molto molto easy molto tranquillo me 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 ma perché non corre ho selezionato la botte vabbè ascolta mangio cibo perché mangio insetti perché ho bisogno di recuperare la vita ma cosa è steso allora io praticamente ho preso la cosa qui ok ok l'ho presa e mo cioè ho preso questa ah la posso stordire senza il metro cioè non c'è un tasto per lanciarla adesso andiamo a vedere se c'era qualcosa vediamo 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 perché qua poi è tutto chiuso quindi non siamo no sono sempre un babbalucco sì vai dentro non ho visto vado sempre là correndo cioè andando senza far pausa e mi sente quindi devo save veloce save veloce è una cosa proprio d'altri tempi allora io adesso ho la bottiglia in mano cammino molto easy molto tranquillo senza far casino zitto zitto beh posso anche cammino no fermo vado avanti e inizia a sentirmi da qui ok fermo molto fermo ok molto fermo ah con la e ok con la e lo lanciavo però non ha chiavi eccola lì la chiave scusami io adesso prendo la mia ok chiave della porta urlante ok prendo anche il fazzoletto via tra poco si sveglia quindi dove sarà la porta urlante no questa là ce l'ha allagata mannaggia porta urlante chi cacchi si ricorda dove era di qua forse si si scusate ma adesso chiudo perché tra poco si sveglia e quindi non abbiamo bisogno di andare avanti va bene scrigno non c'è niente insetto che ho appena mangiato prima beh dai nasconditi ok non abbiamo più niente per stordirlo però con la guardia lì non può andare avanti più di tanto perché torna indietro la porta è chiusa quindi in teoria un save lo facciamo e vediamo ok torna indietro adesso studiamo un attimo il suo percorso i topi sono veramente fatti bene e anche i ratti le guardie silenzio non abbiamo ricordo ok allora si ferma lì quindi potremmo aspettare che torna indietro girare l'angolo e passare anche se in realtà sta molto ferma sta ferma molto anche lì potrei correre ma non mi conviene ok niente adesso si mette lì io esco e non mi faccio sentire perfetto mettiti lì fai la guardia io esco ok e me ne vado occhio sempre al rumore ok no mi sto per sentire mi fermo improvvisamente il rumore scende ok direi che scappo abbastanza di corsa e chiave maestra della prigione che carino allora c'è una leva lì quindi si può entrare lì mi piacerebbe anche stenderla con la guardia però fermo immobile e adesso andiamo a tirarla leva ok pronti via attenzione ok leva ok speriamo una chiave via 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 c'è una chiave lì cassetto cassetto chiave dell'armadietto ok mela spero che non arrivi qui dentro che trova magari aperto oh babbia cioè non si pone la domanda non si pone la domanda perché la porta è aperta ma va bene allora quello lo apriamo dopo adesso guardiamo lo scrigno nido di calabroni ahhh capucce di juta e nido di calabroni magari no eh ha aiutato la chiave dell'armadietto dentro trovo la bandoliera della pirata basso tozzo pericoloso come un barile di polvere sparo capitano 8 miccia accesa capitano galeone strega del lago forse il più famoso pirata assolcare l'acqua del lago barilia manifesti ricercato il capitano miccia accesa indossa sempre per capire ah questi sono i kit in pratica menestrello e l'altro per andare a completare perché qua c'è il menu statistiche dove ci mostra il tempo totale di gioco i png incontrati le missioni fatte insomma quindi sembra essere anche piuttosto interessante come titolo barile non c'è niente a prescindere cioè voi andate cercate qualcosa e dice già non c'è niente va bene allora qua abbiamo aperto c'è forse una mela lì sopra bello anche come si arampica mi piace molto candele prendi prendi candele non puoi portare altre candele va bene possiamo prendere una bottiglia così almeno stendo la guardia ok carta del destino e cosa me ne faccio allora scusate vado su varie carta del destino alcuni impiegano conoscere il fatto altrui va bene allora ok facciamo così eccola lì la guardia adesso vado la stendo appena la passa vedo di stenderla e magari eh cacchio c'è quella quella chiave lì che devo far cadere e voglio capire come posso fare col bacchetto giusto allora se lì c'è una chiave se io lancio la chiave no è evidente che non si può però se io prendessi lì cosa c'è scritto manifesto della cella vado mamma mia era così peccato allora adesso prendiamo la mira ok allora un fazzoletto che altro hai voglio prendere la mira lì e tirare giù quella ok porta la carità eccola qua ok grazie ok stiamo andando anche piuttosto bene devo dire perché poi ci saranno anche delle scene ambientate anche all'esterno quindi allora vediamo avvertimento il meccanismo il ponte è molto sensibile in attesa di riparazione da parte del fab per maneggiare con cura allora guardi è là sotto chi se ne fa e ma come lo ripariamo il fatto che qui ci siano dei bastoncini mi fa un po' pensare che probabilmente devo prendere i bastoncini e devo colpire qualcosa colpisco là no voglio i bastoncini io però eh sì bello anche il modo in cui ho imbalzato il ponte bello bello anche il modo in cui correre a quattro zampe no veramente lanterna molto bello adesso scusatemi ho influenza influenza esterna di messaggi che mi arrivano così a tradimento allora ragazzi che dire andiamo avanti ancora un attimino vediamo cosa c'è dietro all'angolo e poi mi direte voi che cosa pensate di questo gioco allora vediamo un attimo uh mi sta venendo un'idea sta venendo una grande idea allora se con silenzio no Perché vedo una cosa appesa lì in alto Eh no Scusate ma se io No mi vede Alla mappete Bene di fronte a questo dilemma Io vi lascio ragazzi Fatemi sapere che cosa ne pensate del gioco Ghost of a Tale E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay Alla prossima ragazzi Ciao ciao